Ci troviamo al Vinitaly, al consorzio Vernaccia di San Gimignano, abbiamo appena concluso la Masterclass che appunto riguardava un pochino l'abbinamento della Vernaccia con il cibo, con la tradizione. I piatti che noi proponiamo al San Martino 26 li abbiamo portati qui oggi dove sono stati 5 abbinamenti. Insieme a questi piatti è stata appunto abbinata la Vernaccia di San Gimignano che Letizia vi racconterò un pochino meglio. Abbiamo appena terminato la Masterclass per il consorzio Vernaccia di San Gimignano, abbiamo portato in degustazione 6 diverse etichette dalla 2023 fino ad arrivare l'ultima, 2018, in abbinamento ai nostri piatti. Questo ci ha permesso di creare un excursus delle diverse annate, dei diversi territori e anche cantine che abbracciano questa idea di Vernaccia. Noi siamo molto contenti, soprattutto anche per la risposta piacevole del pubblico. Posso dire che è stata una grande soddisfazione, un grande successo, tanta gente che cercava e voleva entrare nonostante eravamo un sold out. Felici di aver fatto questo evento per la Vernaccia di San Gimignano. Grazie mille a tutti e vi aspettiamo a San Gimignano al San Martino 26.